però il gusto di dire l'ho trovato bravo manca il loro ha fatto il top 10 asia e mi ha scritto moica asia e quelle problema top 5 ha fatto sto mazzo maggio ma in realtà sono collegato perché comunque trattali bene domani tranquillo enzo stanno in mano a posto domani entro faccio accarezzare a matti faccio accarezzano a bufala il mazzo è praticamente è molto strano però è praticamente uguale a quello di vent'anni fa cioè è il calacro c'è uguale non è cambiato un cazzo ma è anche buono grazie vichingo è anche buono a trovare le carte però c'è nel senso se troviamo le carte fa la fine del duello di prima gioca sempre lui grazie daniele amore mio di che ci sono tutti i player penso tranquillo che riporto dava nulla quindi ammazzare la sicura e buona non ne conosco nemmeno no c'è vikings ritmo era quello a credere quello del drago vikings ci ho mai giocato che ne porti di responsabilizzazione senza provare il gioco prima è dannatamente vera questa cosa non c'è un saluto a te ma lo gioco dopo lo gioco ma tu ci hai giocato a vikings può essere no e ci provi a cercherò sicuramente ci potresti giocare anche per aiutarmi adesso stiamo portando stiamo aprendo il calino comunque sono contento di piaccia ha usato capito con un ragazzo siamo prendi il clan su un raid se volete avevo paura che il mazzo a vissi corsair cash per fortuna che in cielo ora non mi servirebbero degli invoc chiedo troppo si probabilmente si chissà che carte è questa piazzera umana tutta sulla sinistra c'è un'idea una mezza idea basta il fatto che c'è la la skipper il problema è quello che cazzo trova che ne sai che è a zero doppio no a zero a la tenuta al mandigan c'è un po di troppo buoni in bocca sarebbero ovviamente i massimi che sarebbe fortissimo guarda ma contento anche di quello che fa tra i danni in bocca giusto per giocare a son strozzo dopo ma eri perché detto che giochiamo a db di stasera ogni sera è toccata porta che volete da me sì ma se stasera c'è la sponsorizzazione come cazzo che cazzo ne c'ho io completamente rincoglionito caro ma non è mai colpa sua sto butto secondo me è così fatta e fatta così ma anche la tattacca eh ma è andato qui che mo che dovevo stare zitto la volevi da l'andata ok e poi ho scritto in teoria no sì ma qui non roba tanto il cazzo minchia sei andato a domenici c'era un picoglione incredibile ho fatto ho detto in teoria sì ma non è anche in teoria non lo so cioè questa è buona il turno dopo però io vorrei pescare capito quindi magari fare i marinari erede e pescare una roba del genere non lo posso far però c'è un ragazzo che dice Atrix potevi scelti un team migliore sti qua non mi sembrano la stessa e non voleva pagare non voleva pagare manca a me cazzo manca a me cazzo manca a me gioia allora per favore la mia di questa c'è sta no vai così facciamo trovo marinari erede e peschiamo 4 peschiamo 5 quanto peschiamo? G peschiamo 5 beh pescando 5 sicuramente avremo dei successi dai oh non c'è lo scullo fa freddo pazzesco bro basta poco per essere felici della vita ma sai botte ti farò vedere che comanda bene 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 muy bien mama muy bien mama questa è stata sicuramente una ha pescato 4 carte voi vede che piavo che volevo me prende ma magari è schifo non sarebbe stata mal arlo smettate se vogliamo essere precisi questo non gioca la 2-2 ah ha fatto top 5 in america in Asia l'amo e gioca guardiano cifo ok mi sa che arriverà la scuritura dopo devo capire e pensare se invocare per gala sono 4-5-6 hero power poi gioco gala oppure se farmi i cazzi miei ah raga mi sa che io ho un po' peccato basta cincischiare carne tenera per il signore dei draghi un bocconcino a soppurezza tu ti senti cerco che l'accetta taia 2-4-6-7-8-7 8 2-4-6-7-8 7 e devo giocare un'altra carta fai il mio caro per le somme di organica di domani a De Malbo te grossi mio caro bello mio bello mio grossi mio caro per organica questo prepara la combo con la skipper bello eh manca me manca me il cazzo di privilegio potuto reggio causibile madonna mori dio santo devi perder la voglia di giocare perché questo stalla me che Enrico fa veramente c'è Enrico veramente caro che vuoi da me te l'hai tutto il tuo compare che vuoi da me e quindi che vuoi da me ma perché bestiai me sei matto ma che cazzo ridi oh Enrico sei trasmissione hai festegnato e li hai festegnato no vabbè ti devo tirare lontano se bestemmi no non è allora è qui e quindi no veramente ragazzi hai un po' di rispetto allontanami vannami non 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 istigare come cazzo è partito warrior di prima oh ma che sei matto ma vabbè ma vabbè ma vabbè ma vabbè ma vabbè ma vabbè prego prego cattillo chi preghi tu ma che che vuoi no hai detto quella cosa della pom della un po' ma raga non mi sopporto più così lasciamo i due no raga veramente non mi sopporto più non mi sopporto più cioè nel senso a me non è che mi parla ma domani non ti faccio conoscere Gigi o tram sono felicissimo che Gigi ha detto voglio conoscere chi sta questo mi pare un bravo guaglione ma non l'ho già abbracciato io domani vivendo sì vi parla un po' così vivendo bravo bomba e muori e muori vabbè non è morto non è che possiamo facciare la questione di stato comunque morirà con lo scio come la giro e come la vola dire sempre muore la chiusura dipende potrebbe farmi il 2-5 con Reborn morirebbe lo stesso ma contesterebbe tutta la mia board non sarebbe un po' se mi gioca il 5-4 non lo contesto ma tutto faccio cioè i 3-2 rimarrebbero annichiliti però attenzione c'è un ragazzo che dice onorato del mio primo ban ad essere onesti il ban è insito del mio no la giocata è molto particolare ambigua fa quasi schifo drawing benvenuto nel club dei bannati è un onore siamo felici che abbia permesso che sia questo il canale dove hai avuto il primo ban ma che stai dicendo? e noi vogliamo augurarti il meglio e speriamo sempre che non sia l'ultimo ma il primo di una lunga serie qua il problema è il faceless curato il faceless curato il faceless curato esiste il 4-4 oh buono ce l'hai? ti basta ti basta ti basta ti basta io sto clicca sa fa la chi a chi mette più botte e potrei anche pensare di vincere io come dicevo ragazzo è visto che è uscito league of pokemon legends dei pokemon ma da me la spella due amore simile insomma il fatto che vorrei giocarmi da skipper con lui però pensiamo un attimo roba dirla però se me fa dove c'è azione è bravo reggione intorno a brano possiamo fare così ti chiedono è mai contato tutti i tuoi tic caro la centrale no che poi sono anche quelli in combo di chi in combo le visti mai penso che penso che no no ragazzi è la cosa bella di fan quando dorme grazie fine ragazzo c'è al fine buono e ragazzi e vi assicuro che alle tre di notte no no alle tre di notte vedersi alzare un mignolo nel sonno non non è una bella cosa ti cadi ma poi a me piace quello lato che fa chi tuo manda il bacetto no smetti ti voglio bene comunque qua il problema rimane comunque quello stronzo di king crash però anche perché rega quella è che a quelle crisi trappò purtroppo dove c'è azione del sud vendito no 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 ma 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 il rischio grazie carissima ma in che senso il dominatore? mi sta fanno per il culo Gioia no 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 noto della no non una cosa dice hai visto la live di ieri? alessandro lozzari faccio i tic che ho da vent'anni tutti insieme muoio ovviamente implodo scoppio hai visto la live di ieri in cui gli è partito il mignolo ti andrebbe di rivederla insieme? ma a me mi batte sempre il mignolo c'è nel senso in questo momento che non sono inquadrato il mio mignolo è in movimento particolarmente grosso mi fa anche male onestamente un po' anche quello del piede parte certo è perché non mi vedete mai diciamo in prima persona tutto però il colonnello ha dormito con me e può testimoniare testimoni che cazzo di piedi audio ho vinto ho vinto l'audio di cosa per che ho chiesto l'audio? non lo so non lo so manco io non so se tu lo conosci oppure no ma gli spacca i culi con il buratello bro c'ha le carte fanno parte di un giochino in cui ricrea delirio e arte ciò che riso lo ha tricci